Buongiorno da Edo, Tetris è sicuramente uno dei videogiochi e uno dei prodotti multimediali più popolari della storia, no? Tra l'altro è un gioco che ha esattamente la mia età perché è nato in Russia nel 1984, quindi inizia a essere vecchiotto. C'è una versione in particolare di Tetris, che è quella per Nintendo NES, che è la versione dell'89, che viene molto utilizzata in ambito competitivo, anche online, in tornei. Insomma, è una versione che probabilmente è facile da... è più accessibile, facile da portare, no? Ecco, su questa versione si concentrano quindi le competizioni. Competizioni che non si basano più sul punteggio massimo, perché quello a un certo punto smette di crescere, cioè la grafica non riesce più a mostrare un punteggio superiore al 9999, eccetera. Quindi ci si basa sul numero del livello che si riesce a raggiungere. E ovviamente sono state fatte varie prove con l'intelligenza artificiale che è riuscito a portare il gioco a crashare perché arrivava a un livello troppo alto, e però nessun giocatore umano era mai riuscito a far crashare il gioco, cioè a raggiungere un livello tale per cui il gioco a un certo punto si bloccasse e quindi potesse essere considerato finito, tra virgolette. Bene, questo limite è stato superato da un ragazzino, una ragazzina di 13 anni, con una tecnica che consente nel tenere il pad del Nintendo in modo tale per cui non si pigia direttamente sulle frecce, ma si tiene il pollice sulle frecce e con l'altra mano si spinge il pad verso il pollice con una velocità tale per cui si riesce a spostare i blocchi molto più velocemente rispetto a dover manualmente pigiare. Metterò qualche immagine di questa tecnica e del gioco in sé, insomma, per farvi capire cosa sta succedendo. Perché questo ragazzo, che si chiama Willis Gibson ed è conosciuto online con il nome di Blue Scooty, ecco, è riuscito a far crashare il gioco, cioè a raggiungere un livello tale per cui a un certo punto, pulendo una riga, il gioco ha crashato. Nessuno ce l'ha mai riuscito, questo è successo a livello 148, tanto pensate che dopo il livello 29 i blocchi di Tetris vengono giù a una velocità tale per cui fate fatica persino a vederlo. Se state vedendo il filmato di questa partita, ecco, i blocchi vengono giù a una velocità tale che è impossibile praticamente capire cosa sta succedendo. Ebbene, questo ragazzo invece ci riesce perfettamente e riesce a spostare i blocchi dove gli pare. Tra l'altro, per far crashare il gioco era necessario pulire una riga soltanto e non più di una. Questa è una condizione che si è scoperta grazie anche all'intelligenza artificiale che ha giocato varie volte e ha crashato Tetris appunto. e lui è riuscito appunto a ottenere questo risultato poi esplodendo in una ansia tremenda per quello che ha ottenuto. Tra l'altro, la cosa anche interessante è che sopra un certo livello il colore dei blocchi, che sapete che cambiano ogni tanto durante i livelli in Tetris, che è probabilmente fatto con un algoritmo che si basa sul numero del livello. Ecco, superato un certo numero, il colore dei blocchi impazzisce e iniziano a venire fuori dei blocchi con colori strani, addirittura con dei neri talmente scuri che sono difficili da vedere. Naturalmente il codice colore esce dal range di quelli visibili e va a pescare dei valori strani che il Nintendo fa fatica a renderizzare. Si vedono dei glitch strani anche qua. Quindi tutto molto bello. Oggi quindi avete scoperto con me che esistono una nuova tecnica per usare il pad del Nintendo a muovere velocemente i blocchi e che un ragazzino di nome Willis Gibson di 13 anni è il più forte giocatore di Tetris di tutti i tempi. Allora, è il 4 gennaio, nuovo anno, ma si riprende con le vecchie abitudini perché riprendiamo a parlare di intelligenza artificiale o meglio il nome su cui si sta concentrando il consenso generale è quello di Generative AI Gen AI, abbreviato, quindi intelligenza artificiale generativa. La notizia che in realtà è arrivata dopo Natale, intorno a Natale, ecco, è di quelle grosse però importanti e che avrà degli sviluppi in futuro. Quindi iniziamo a seguirla. È una causa intentata dal New York Times a OpenAI e Microsoft per un uso di materiale coperto da copyright e tra l'altro è coperto da i paywall del New York Times. Quindi prendo un articolo del Post che ne parla, così andiamo anche un po' fuori dal solito novero di testate di settore che prendiamo e vado a vedere un po' di che si parla. Allora, il New York Times ha fatto causa a OpenAI e Microsoft accusando le aziende di aver usato i suoi articoli che sono naturalmente portati dal diritto d'autore per sviluppare i sistemi di intelligenza artificiale. Sto proseguendo la lettura del Post Secondo New York Times che è uno dei giornali più letti al mondo i sistemi di intelligenza artificiale addestrati con i suoi testi starebbero sottraendo visitatori al suo sito. La causa non specifica l'entità del risarcimento chiesto dal giornale ma dice che le aziende sarebbero responsabili di miliardi di dollari di danni e chiede la distruzione dei software basati sui modelli allenati con il materiale protetto da copyright. Quindi secondo questa denuncia C-CPT in alcuni casi produrrebbe testi identici quasi parole per parola ad articoli pubblicati sul sito e inaccessibili se non abbonandosi perché naturalmente sono protetti dal paywall. Poi viene ricordato dall'articolo che questa non è la prima causa intentata contro OpenAI infatti ne avevamo parlato anche noi a settembre anche alcuni autori di romanzi come George R. R. Martin John Grisham e Jonathan Franzen avevano fatto una causa per motivi simili insomma a OpenAI e poi a novembre anche molti altri autori di Sagge avevano fatto la stessa cosa aggiungo io ci sono state anche altre cause l'anno scorso come quella di Getty Image per più o meno le stesse motivazioni. Proseguo la lettura secondo quanto sostenuto dal New York Times la denuncia segue contrattazioni iniziate ad aprile fra il giornale e Microsoft che naturalmente ha rapporti molto stretti con OpenAI che però non avrebbero prodotti risultati dopo andiamo a approfondire anche questo punto c'è poi una precisazione interessante che di recente l'editore tedesco Axel Springer che tra le altre cose pubblica la Build che è il quotidiano più diffuso in Germania e politico e poi l'agenzia di stampa statunitense Associated Press ecco questi hanno raggiunto degli accordi con OpenAI quindi per esempio AP ha dato accesso a parte del proprio archivio testuale proprio a CIGPT e l'accordo con Axel Springer prevede che CIGPT possa fornire agli utenti e strati di notizie pubblicate sulle testate proprio del gruppo non c'è dettaglio sull'entità economica di questi contratti ma insomma è per capire che OpenAI effettivamente ha stretto degli accordi commerciali con alcune testate in chiusura di questo articolo si fa riferimento alle allucinazioni e il New York Times sostiene che queste allucinazioni possono rappresentare un danno per la propria reputazione se vi ricordate cosa sono le allucinazioni cosiddette sono delle informazioni che i modelli di Generative AI producono spacciando naturalmente come vere come risposta al prompt che però in realtà sono totalmente inventate perché ricordiamo sempre i modelli di Generative AI sono modelli probabilistici quindi mettono insieme delle risposte che sono probabilmente corrette di cui naturalmente non hanno nessuna contezza cioè non hanno idea di che cosa voglia dire quello che stanno scrivendo però mettendo insieme quei caratteri quelle parole formano delle frasi che inserite nel contesto rispondendo al prompt dovrebbero probabilmente avere un senso molte volte invece questo senso non ce l'hanno ecco che in questi casi si parla di allucinazioni quando le risposte prodotte sono inventate non hanno nessun senso per approfondire un attimino vado su un articolo di Ars Technica che ci va a dire anche qualche cosa in più sul training ecco di questi modelli su quello che si sa almeno del training di questi modelli e infatti dice che parte dell'uso non autorizzato del Times che il Times poi include in questa sua accusa viene da quello che si sa del training di varie versioni di GPT perché prima di GPT 3.5 le informazioni su come i dataset erano allenati erano pubbliche cioè si sapeva quali erano i dati inclusi nei dataset e una delle sorgenti usate è una collezione di materiale chiamata Common Crawl che appunto l'accusa sostiene che contenga informazioni da 16 milioni di record di siti pubblicati dal Times e questo fa del Times la terza più grande sorgente di informazioni di questo dataset che viene dietro Wikipedia e un database di brevetti degli Stati Uniti poi da GPT 3.5 in avanti OpenAI non ha più rivelato quali sono le sorgenti di dati inclusi nei dataset per allenare per allenare GPT le versioni più recenti di GPT però tutte le indicazioni fanno supporre che ci siano degli interi articoli del Times dentro questi dataset perché sono tutti fatti poi dei test e proprio scoprire quali sono le informazioni presenti in questi dataset sarà probabilmente un dettaglio che dovrà in qualche modo emergere se non troveranno un accordo diverso in questa causa perché sarà anche interessante seguirla e la causa del Times va proprio nello specifico a dimostrare che il materiale che è utilizzato per allenare i dataset viene mostrato molte volte testualmente verbatim come viene detto in inglese e quindi gli output che spesso GPT e altre versioni di GPT generano sono direttamente pezzi degli articoli presi parola per parola e tra l'altro in altri esempi sono mimate sono rappresentate simulate le caratteristiche distintive dello stile del Times in alcuni pezzi ci sono vari esempi che lo dimostrano e poi naturalmente il New York Times blocca l'accesso a molti articoli dai paywall quindi se non si è abbonati non è possibile leggerli ebbene uno degli screenshot mostrati come esempio in questa causa fa vedere che c'è una richiesta di dimostrare il primo paragrafo di un articolo del Times e questo viene mostrato e per mostrare i successivi bastava chiedergli di andare avanti con gli altri paragrafi ecco e CACPT li mostrava quindi superando naturalmente senza troppi problemi il paywall poi a quanto pare da quanto dice l'articolo di Ars Tecnica CACPT ha in qualche modo sistemato questo problema mostrando tra l'altro un testo che dice di andare a proseguire la lettura proprio sul Times però invece Copilot quindi la versione di CACPT usata da Microsoft sul sito che era una volta Bing Chat ecco continua a mostrare invece questo stesso comportamento quindi non tutti i buchi ecco sono stati chiusi una delle tesi usate dalla difesa di OpenAI e Microsoft per appunto respingere questa accusa è quella del Fair Use che sapete che è un diritto di utilizzare materiale anche coperto da copyright per brevi estratti ecco per poter per diritto di cronaca ecco per poter costruire magari una notizia o per dare delle informazioni ma naturalmente quelli che accusano cioè in questo caso il Times hanno fatto hanno dimostrato in varie occasioni che non è questo non è Fair Use utilizzato tra l'altro in contesti in cui viene trasformato in altri testi ma proprio ci sono pezzi presi parola per parola quindi questo non costituisce Fair Use ma proprio una violazione dei termini e dei terms and conditions del Times chiudo questa notizia prendendo invece un articolo del Guardian perché si parla naturalmente di questo e c'è un stato interessante che vi riporto dice che questa causa è venuta fuori dopo che il Times ha interrotto le negoziazioni tra le due compagnie quindi si scopre quindi che c'era un dialogo in corso tra il New York Times e OpenAI e Microsoft ecco per portare avanti un possibile uso commerciale un accordo commerciale ecco per usare i loro dati quindi a un certo punto questi rapporti si sono interrotti non sappiamo meglio come e inoltre la causa fa riferimento appunto alle allucinazioni qui abbiamo un ulteriore dettaglio dice che c'è per esempio un pezzo in cui Bing Chat quindi ora Copilot ha dato una risposta identificata come un articolo del Times o che poteva essere identificata come un articolo del Times includendo un testo sui 15 cibi più salutari per il cuore nel mondo ecco e 12 di questi cibi non erano presenti nell'articolo originale del Times quindi portando secondo appunto l'accusa un danno di reputazione sempre da questo articolo riporto infine uno statement di OpenAI dice noi rispettiamo il diritto dei creator e dei possessori dei contenuti ma le nostre conversazioni con i New York Times erano produttive e pensavamo che appunto sarebbero andate avanti costruttivamente ma quindi a questo punto siamo sorpresi e molto rattristati di quello che vediamo di questi sviluppi quindi è una storia interessante che continueremo a seguire perché potrebbero emergere dettagli ancora più frizzanti nei prossimi mesi rimango sull'AI in questo secondo blocco da un paio di notizie però più velocemente c'è una nuova startup creata da Intel e Digital Bridge che è una startup che offre un servizio di software as a service che serve per deployare i modelli di machine learning e large language models e questa startup si chiama Articulate scritto articulotto e quindi questo è esattamente come lo pronuncerò io articulotto perché tra l'altro è tutto brutto in questo nome è brutto è brutto il nome è brutto anche il logo vi faccio vedere il logo dal annuncio ufficiale sul sito di Intel questo è il logo di articulotto è brutto secondo me è brutto tutto comunque andiamo avanti in questa news allora articulotto può essere implementata on prem in cloud o insomma in hybrid cloud può utilizzare la libreria IP di Intel e poi supporta anche varie alternative di infrastrutture tra cui Nvidia l'obiettivo di articulotto è di facilitare le aziende a appunto eseguire il training di modelli basati su dati aziendali quindi dati privati in modo sicuro non condiviso su internet sfruttando appunto l'hardware AI di Intel come per esempio i processori Xeon e gli acceleratori Habana Labs Gaudi l'articolo di The Register a cui faccio riferimento dice che la tecnologia alla base di articulotto è stata testata da Boston Consulting Group quindi BCG e ha ricevuto sostegno di diversi fondi di venture capital quindi probabilmente ne sentiremo parlare ancora e chiudo con una notizia che rimane sempre in ambito AI e allucinazioni c'è un tentativo di sfruttare un bug bounty quindi quei programmi che offrono delle ricompense economiche a chi riesce a scovare dei bug in software open source ecco c'è un tentativo di sfruttare le AI per scoprire dei bug appunto e guadagnare dei soldi però truffando infatti questa notizia che riprendo da The Stack parla del tentativo di truffare curl o si url insomma curl perché c'è un bug hunter appunto un cacciatore di bug che ha cercato di ottenere la ricompensa appunto trovando un bug in curl però usando un intelligenza artificiale e l'ha fatto sfruttando la piattaforma HackerOne che è proprio specializzata in questo cioè serve per andare a scovare bug e vincere dei bounty ma il fondatore di curl che è Daniel Stanberg ha esaminato insomma tutto il report di questo utente e poi ha respinto la segnalazione anche abbastanza rattristato questo perché ha scoperto che il codice e poi tutte le spiegazioni a corredo che venivano fornite non aveva nessun senso e peraltro era codice non presente in curl quindi probabilmente inizialmente pensava fosse un qualcosa un tentativo di riprodurlo in un branch locale da questo segnalatore poi si è scoperto poi ha scoperto lo stesso Stanberg che questo codice probabilmente è stato generato proprio dall'intelligenza artificiale probabilmente da ChagPT perché non aveva nessun senso neanche attinenza con curl questo però perché è interessante segnalarlo perché iniziano ad essere molti professionisti della security che esprimono preoccupazione per l'aumento di segnalazioni che sono finte o sono irrilevanti ecco per per i bug veri che sono però fatte generate dalla AI e questo potrebbe sovraccaricare i team che appunto fanno triage sulle segnalazioni e rendere invece più difficile discernere tra quelle vere e quelle invece sbagliate finte poi c'è una dichiarazione di HackerOne che dice di non aver notato un incremento sostanziale di questi casi e comunque di avere dei meccanismi per filtrare le segnalazioni non valide o non riproducibili indipendentemente dal fatto che siano generate da AI o meno però insomma questo potrebbe segnalare un trend preoccupante ecco da cui insomma guardarsi un attimino oh infine purtroppo dobbiamo parlare di tagli di nuovi layoff non abbiamo neanche finito la prima settimana dell'anno e già c'è una notizia che riguarda dei layoff nella nostra industry purtroppo parlo di Xerox questa volta sono su una notizia apparsa su CNBC che si intitola così appunto Xerox taglierà il 15% della sua forza lavoro appunto come parte di un piano per implementare una nuova struttura organizzativa insomma una classica ristrutturazione aziendale con un nuovo modello operativo si dice nell'articolo che i licenziamenti riguarderanno probabilmente più di 3.000 dipendenti perché ci si basa sul numero di 20.500 dipendenti che Xerox aveva dichiarato nel dicembre 2022 dopo questa mossa insomma ci sono delle reazioni del mercato le azioni di Xerox sono scese di oltre il 9% quindi insomma non una mossa gradita agli investitori e poi si parla del piano di ristrutturazione ecco c'è un piano di ristrutturazione di Xerox che prevede di semplificare i prodotti sempre nel suo core business che rimane la stampa e poi di aumentare l'efficienza nei servizi aziendali globali potenziare la focalizzazione sui servizi IT e altri servizi digitali quindi insomma non una buona notizia ma dobbiamo continuare a seguire questo trend che purtroppo prosegue quello che già stavamo vedendo l'anno scorso siamo in chiusura è il momento di darvi qualche consiglio di lettura il primo è sul blog di OutZero il blog di OutZero di Okta c'è un blog post molto carino che introduce l'API WebOton ne abbiamo parlato qua varie volte quella che sta anche alla base delle passkeys benissimo quindi WebOton a short introduction questo è il titolo dell'articolo e vi spiega un po' che cos'è appunto WebOton come utilizzarlo un po' le nomenclature base insomma un po' un dizionario ecco se volete una bella introduzione ecco che cos'è WebOton vi consiglio di andare a leggere quest'articolo ripeto blog di OutZero l'articolo si intitola WebOton a short introduction e il secondo invece che vi consiglio è sul blog di opensource.net sapete ne abbiamo parlato qualche mese fa è quello che una volta era opensource.org che poi Red Hat ha dismesso ecco e donato alla opensource initiative che quindi l'ha rimesso in piedi appunto su opensource.net su questo blog trovate un articolo che si intitola RISC-V Big Movement on the open hardware front sapete che qua parliamo spesso di RISC-V perché ci interessa molto ebbene qua trovate una bella introduzione a che cos'è RISC-V se volete entrare un po' meglio in questo in questo mondo un articolo pubblicato il 19 dicembre vi spiega un po' appunto che cos'è in poche parole insomma un po' di informazioni poi anche sull'ecosistema intorno a RISC-V e insomma quello che è parte della della Linux Foundation che è RISE appunto RISC-V software ecosystem il progetto nato nel 2023 quindi vi consiglio di dare un'occhietta anche a questo articolo ripeto RISC-V Big Movement on the open hardware front lo trovate su opensource.net e invece a me vi trovate sempre qui anche nei prossimi giorni e quindi grazie per avermi seguito anche in questa puntatona noi ci risentiamo presto e fate i bravi mangiate le vostre verdure tante fibre e soprattutto adoperate questi giorni per contribuire all'open source che fa sempre bene fa bene a voi e fa bene a noi ma perché ho detto questa roba? ciao